Il governo sta facendo delle cose demenziali, cioè sta centralizzando tutto a Roma. I nostri amici al governo sono convinti che più portano a Roma risorse, poteri, più prendono voti, non hanno capito che così andranno a sbattere contro un muro di cemento armato. Questo sta avvenendo per i fondi sviluppo e coesione. Da un anno sono bloccati 20 miliardi destinati al sud e adesso stanno preparando un'altra cosa demenziale, cioè vogliono fare un'unica zona economica speciale, un'unica ZES, però controllata da Roma. Provate a immaginare, centinaia di industrie che si vogliono installare nell'area meridionale che devono mandare le pratiche a Roma. L'Italia è morta in queste condizioni, però avranno modo di rendersene conto.